Amici e amiche di BPM Power, nuova settimana, nuovo gioco gratuito su Epic Games Store. Dopo averci regalato gioconi come Alien Isolation, Star Wars Battlefront 2 e Jurassic World Evolution, da oggi è disponibile su Epic Games Store Dandara Trials of Fear Edition. Il gioco sarà disponibile fino al 4 febbraio, quindi fino a giovedì prossimo, e in versione PC o Mac. Lo sviluppatore Long Hot House ha creato questo titolo del genere metroidvania basato sul personaggio del folklore brasiliano, Dandara appunto. Per scaricare questo gioco non dovete fare altro che andare sul sito di Epic Games Store e loggarvi con il vostro account o, perché no, crearne uno per l'occasione. Poi scaricate e installate il client, se non l'avete già fatto chiaramente. In seguito dovrete aprire la pagina del negozio dal client, poi cliccare su esplora e infine spuntare la scritta gratis che troverete a destra. Lì troverete poi tutti i giochi gratuiti. Oppure se non vi va di fare questo passaggio, cliccate direttamente qui in basso in descrizione per avere il link e iniziare immediatamente il download. Mi raccomando, diteci che cosa ne pensate di questo gioco e se vi va lasciate un mi piace qui in basso e non dimenticate di seguirci su Facebook e Instagram. Ciao e alla prossima!